Il patto per la lettura che l'amministrazione comunale ha proposto a tutte le associazioni e alle scuole al fine di diffondere tra i giovani, in particolare ma più in generale all'intera comunità, la passione per la lettura di libri e di conseguenza per la cultura. Polla, già da tempo riconosciuta come città del libro e dopo aver ottenuto il riconoscimento per il biennio 2018-2019 di Città che legge, ora rafforza l'impegno verso la lettura e i libri grazie al patto locale per la lettura. Si tratta di un'iniziativa ideata e curata dal presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Corleto, che ha voluto coinvolgere in ottica di collaborazione tutte le associazioni e il mondo della scuola. Così ieri, presso l'aula consigliare, si è tenuto un incontro nel corso del quale è stato illustrato il progetto e in cosa consiste l'iniziativa e a seguire le associazioni presenti, l'Istituto Comprensivo di Polla, la Scuola Paritaria Santa Teresa, l'Università della Terza Età, la Biblioteca Comunale, e la Biblioteca del Convento di Sant'Antonio e le case editrici presenti a Polla, hanno sottoscritto il patto e l'impegno per sensibilizzare la comunità verso l'importanza di leggere e per valorizzare e promuovere tantissimi autori locali che si sono dedicati nella stesura di volumi e opere letterarie. All'evento di presentazione e di sottoscrizione del patto locale per la lettura, oltre al presidente del Consiglio Giovanni Corleto, che ha fortemente voluto il progetto, coinvolgendo le scuole al fine di sensibilizzare soprattutto i giovani sull'importanza di leggere libri per migliorare la propria cultura, la propria dialettica, per avere una visione più ampia del mondo ed essere davvero liberi e senza condizionamenti, anche il sindaco Rocco Giuliano, primo firmatario del patto, che ha ricordato i tantissimi autori nativi del territorio come il professor Vittorio Bracco e il professor Rocurcio e tantissimi altri che tutt'oggi continuano a dedicare il loro tempo e la loro passione nella stesura di libri. Tutte persone che per Giuliano rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale da valorizzare. Inoltre il primo cittadino ha anche voluto sottolineare come anche le famiglie devono svolgere un ruolo primario nel diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi.